Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti a Cremona per sostenere Alessandro Portesani ha sottolineato i problemi del commercio e dell'artigianato che colpiscono in modo particolare il nostro territorio. Trovare mano d'opera qualificata è sempre più difficile a causa di vari fattori, dal calo demografico alla scarsa propensione dei giovani a svolgere certe professioni. Un altro grave problema per il commercio è che i centri storici stanno morendo, andrebbero rivitalizzati secondo il ministro. Alcuni dei problemi sono quelli risaputi, c'è un tema vero e serio e che purtroppo diventa difficile anche in queste zone trovare mano d'opera, forza lavoro qualificata. Un po' è l'inverno demografico che comincia a colpire, un po' è chiaramente la diversa attitudine su certi tipi di professioni, dell'artigianato, del commercio che però così rischiano in qualche modo di andare a morire. Queste città devono ritrovare vita specialmente nei centri storici e per dare vita ai centri storici bisogna garantire la sopravvivenza delle attività dei centri storici. Se non ci sono attività commerciali e non si dà vita ai centri storici questi inevitabilmente moriranno. E questo come un circolo vizioso aumenta anche in qualche modo l'emigrazione giovanile impoverendo ulteriormente realtà e città come ad esempio quella di Cremona, non solo Cremona ma qualcosa che vediamo un po' in giro. Quindi dobbiamo far vincere Cremona rendendola vissuta, rendendola viva, questo è il mio punto di vista.